Bentornati buoni e buoni nel 26esimo episodio di Anciarsi 2, il copo dei ladri come sempre Sono giro a ruoto e nello scorso episodio abbiamo assistito alla morte di il nostro amico nemico Finn Finn, Finn come cazzo si chiama E' una morte alquanto un dolore visto che non mi ne frega niente di lui, poteva anche morire prima per quanto mi riguarda Ma ok, non hanno voluto farlo morire ora Eeeh, c'erano quelli con il laser là in fondo, io non li vedo Oddio, potrebbe anche sembrare che non li vedessi, ne aspetti Ah, mi vedo il naso E poi il nostro, la nostra povera amica Elena l'hanno infortunata praticamente Tanti no, si è infortunata quando Finn si è fatto il suo odio con la granata Quindi oggi abbiamo una molto specie di peso morto da portarci dietro Che bello, che bella la vita Che meraviglia I sottotitoli Allora Se solo si avvicinassero un altro pochino Saremmo quasi a cavallo Ok Ma cosa? Dannazione Riga, riga Ok, è morto, è morto Ok, è stato di solo che deve muoversi perché altrimenti moriremmo tutti Da quello che capisco io, da quel poco d'inglese Ok Riga, 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 riga l'arma Passa, era l'ultimo Le grandi battute Sì E Elena, come ti fai? Non è bene Non è bene Non è bene Allora, mi sono sentito a te Non sono sentito a te Per la porta, andate bene come puoi Ma, come, come vuoi? Non, non è Non è Cloe, devo cercare questo Non, non è Non è l'attura di prendere questo stupido Io adoro Chloe La adoro Capitolo 26 Albero della vita Questo è probabilmente l'ultimo capitolo Ah non lo so Ma Da quello che penso io caro Nathan È che tu ti stai per suicidare Oddio questo potrebbe essere pure l'ultimo episodio Perché sto pezzo mi sembra di ricordarlo No No What the hell L'immortalità Drake Drake Hold your fire Hold your fire He's mine Sorry pal Non credo sia finita qui No 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 You have got to be kidding me È immortale Però mi sembra che avesse un punto debole Ma non ricordo come l'ho sconfitto Ah shit Sono vuoto di memoria ragazzi che neanche immaginate al momento Come l'ho sconfitto il due ogni volta Allora Ricordo perfettamente che bisognava tipo colpire La regina O qualcosa del genere Ma almeno mi sembra Non ricordo proprio nulla Ho un vago ricordo più che altro Nient'altro Allora Ok Mi pare di averla distrutta quasi tutta Ho fatto una stupidaggine credo Forte ho fatto una stupidaggine Allora Proviamo a fare così Facciamolo avvicinare Alla resina E proviamo a colpirlo mentre è vicino alla resina Forse questa è la produzione Sì Penso che la soluzione sia colpirlo mentre è vicino alla resina C'ho questo mezzo ricordo Potrebbe anche essere sbagliato Non vorrei dire che è giusto Ma mi sembra che sia questa la soluzione alla fine del combattimento Comunque combatte un essere immortale E' pura follia Maledizione Dannazione Dannazione No non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Ripigliati Ripigliati per favore Sì Sì è questa la soluzione Perfetto Quick time event Più o meno Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia intanto però perché vedo il caro verso di quello che è però distrugge pure gli alberi con la resina questo è un problema maledetto sali 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 dobbiamo cercare di farlo salire vicino alla resina assolutamente ok e 2 traduzione questa sconosciuta ah bene sta dedicando ora anche voi le granate a questa me l'ha affettato maledetto non ricordo quante faccia aveva questo combattimento non me lo ricordo per niente cioè ricordo quasi niente quindi ragazzi tutto normale allora simpatico eh non c'è burlare ci sento abbastanza fortunatamente dove dove è non lo vedi maledetto c'è una cosa in ascolto dai 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 bello mio più lontano di più lontano del possibile tirati da dopo la vicina più possibile alla resina vai 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 ma merda capito il trucco Maledetto 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 No Cidenti Adesso sono andato No raga Ma lo so perso un'altra volta Ma dai Ma dov'è Intanto tu c'ha colpi infiniti Bah E sparisce Ok Ce l'ho fatta forse C'è 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 Vince C'è D'acquietta. D'acquietta, Nate. Que? D'acquietta? Chloe, dico. Non, è bene. Si, è ok. Cosa, ti faccio una cosa, che c'è. D'acquietta. Chloe. Non. Mi turno per andare. Ma accettate, ti fai a perdita la mia. Eh. Guarda chi non si deve essere a casa. Si, è un pazientale. Si, non si, solo non si. Non si, non si, ma non si. Quindi, non si, non? E tu sei sicuramente? Si. Un'faita, per favore. Un'faita non si pagano le tigre. Eh, qualcosa di più arriva, devi avere credito. Sì, questo e una quattro sarà 25 centi. Eh, dove vai Chloe? Sì, ci vediamo. Oh no. Tu sei un uomo, Sullivan. Uh-huh You did good, Nate I think he'd approve Yeah Uh-huh So where do we go from here, huh? I don't know Oh I haven't thought that far ahead Of course not But then again, neither have I Good So, on a scale of 1 to 10, how scared were you that I was gonna die? Four Four? Yeah, why? Four Four Yeah You were at least an eight An eight You were a total eight An eight, those guardian things were an eight Are you kidding me? Yeah, those were terrifying What's a ten? Clowns? Clowns over my death? Clowns? Clowns? I hate clowns Oh, my word, you thought I was dead No, no, you thought I was gone Oh, no Yes, you did I saw you shed tears You shed a bunch of them Tears? Uh-huh It was raining No, it was not You were unconscious and it was raining It was totally sunny out and you were bawling I said, Sonny, you were unconscious Whatever I kept your tears in a jar I have proof I'll give you five Signori Io vengo a servizio al video E vi ho visto tutta la serie fino a qui Chi ci è arrivato Ci vediamo con un certo video 3 Un certo video 3 Nei prossimi giorni Quindi... Lasciate un like Un commento sempre se volete Iscrivetevi al canale Dal vostro giorno è tutto Say Ho